Io ed Ed non vogliamo fare i testimonial di una battaglia di civiltà, vogliamo solo vivere in pace. Ho comprato casa a Terlizia, 200 metri dal luogo dove nacque mia madre, conosco tutti e tutti mi vogliono bene. A Roma abbiamo un piccolissimo appartamento in centro, ma non permetteremo che il corpo di nostro figlio diventi una bandiera dei diritti civili. Meglio tornare a 8.000 km dall'Italia, in quella casetta piccolina in Canada, che è piena di grazia italiana. Così Nichi Vendola a Montreal, in un'intervista a Repubblica, mai quando ero ragazzo a Terlizia avrei potuto immaginare di avere un giorno un marito canadese e un figlio americano. Racconta Vendola, Tobia è nato a Sacramento, l'atto di nascita è stato compilato all'anagrafe californiana, dove la legge consente di scrivere quello che vuoi. Il padre biologico spiega è Ed, in questo modo Tobia è più tutelato, e non solo perché Ed è canadese e italiano e dunque assicura a Tobia altri due passaporti. Il cognome è Testa e non Vendola. Sull'utero in affitto capisco che, a parte la bestialità razzista e omofoba, ci sia un pezzo d'Italia per bene che possa sentirsi disorientata. Penso che se vedessero, se giudicassero in concreto e non in astratto, capirebbero tutto subito, dice Vendola. La gestazione, peraltro, è la risposta della scienza al bisogno di famiglia, è una difesa della famiglia. La maternità surrogata è praticata soprattutto dalle coppie eterosessuali, ed è probabile che fra una ventina d'anni, come prevede Umberto Veronesi, sarà molto diffusa ed anche in Italia si riderà di tutte queste resistenze.